Si sono recati a San Venemiano a casa di un trentenne per notificargli una multa per un'infrazione al codice della strada, ma l'occhio attento dei carabinieri è stato attratto da alcuni arbusti sospetti in giardino, rivelatisi poi effettivamente tre piante di marijuana. Nell'abitazione del giovane sono stati trovati sequestrati anche due barattoli di vetro contenenti altri 75 grammi di marijuana. L'uomo è stato segnalato alla prefettura. Nell'ambito dei controlli antidroga dei carabinieri nelle ultime ore da segnalare la denuncia di un 21enne a Cordiniano in un parco pubblico trovato in possesso di alcune dosi di hashish, marijuana ed un bilancino di precisione, mentre a Crocetta del Montello è stato denunciato un trentenne di origini marocchine che alla vista dei militari ha cercato di lanciare sotto una siepe un panetto di circa 30 grammi di hashish. La droga è stata recuperata e sequestrata.